...con l'opera Femminicidio, Violenza sulle donne, Lucia, la pingola... ...un conto e raffinato, la testa realizzata delle opere che non si compiacciono e domesticamente soltanto della propria bellezza. Infatti, la sua creatività si mette al servizio di importanti e doverose denunce sociali, una su tutte quella del femminicidio. Di fatti, cos'è che rappresenta la tua opera? E di fatti rappresenta, ho voluto immaginare questo femminicidio come una figura nera dagli occhi rossi, dalle sopracciglia infuocate, che brucia l'amore vero. Utilizzo temi della storia dell'arte, come ad esempio avete riconosciuto un'opera di Salvatore Dalì che è appunto questa anima nera fissa con questi occhi rossi e rappresenta la prossima vittima. Purtroppo c'è la prossima vittima che spero con quest'opera, con questo lavoro, di accendere un po' le coscienze, ma incominciando dalle donne che ci sono a fianco, dalle nostre mamme, dalle nostre sorelle, dalle nostre fidanzate, dalle nostre donne. E quindi ti facciamo veramente un grosso applauso perché attraverso l'after si può testimoniare anche di un tema così forte e purtroppo che è alla ribalta dell'autualità. Grazie mille Simone, anche tu sei presente per la terza volta, per la seconda volta, in quest'edizione di Alte Salvatore. Grazie mille. Continuiamo con Colombo Sergio.